a pochi giorni dal natale apre a chioggia nel cuore del centro storico un nuovo bellissimo locale il chioggiottino grande parti d'inaugurazione con un ricchissimo buffet finger food pieno di gustosissime specialità la musica con i dj sandrino ed alex ad accompagnare l'aperitivo e poi verso sera la magia della musica live con il fascino senza tempo del saxo per l'occasione anche tutto lo staff di chioggia tv era presente per scambiarsi gli auguri di natale e fare festa la nuova location è entrata subito nel cuore della gente questa è la serata della grande apertura del chioggia tino allora conosciamo tu sei chiara e poi andrea allora senti com'è questa atmosfera del chioggia splendida il tuo parere unica insomma ci volevo un locale così a chioggia si no decidiamoci forse mancava mancava perfetto grazie mille ciao siamo con valentina allora com'è l'atmosfera del chioggia tino molto bellissima speciale grazie ciao ricco anche il programma degli eventi futuri con in particolare un'idea che sicuramente saprà conquistare anche il pubblico più esigente con raffaele allora la gestione del chioggia tino c'è questa bella novità in città raccontaci com'è anche quest'anima giovane del chioggia tino quest'anima giovane abbiamo proposto un locale per i giovani ma non solo vogliamo puntare a una clientela un po per tutte le età infatti noi vorremmo proporre alla mattina la colazione chioggia tino una colazione a buffet con caffè cappuccino struta d'arancia e un ricco buffet di pasticceria mignon grazie mille ciao il chioggia tino in zona d'uomo a chioggia come te non c'è nessuno a